Termina con la netta vittoria del Gela lo scontro diretto contro il Dattilo Noir, un 4-0 che consente alla squadra di mister Totto Burculeri di soffiare il secondo posto nel girone A del torneo di eccellenza proprio alla formazione ospite e di mettere nel merino l'attuale capolista san-cadaldese distante appena 4 punti. Per il Dattilo Noir quella rimediata ieri è la prima sconfitta lontano dalle mura amiche mentre il Gela ritrova il successo davanti al proprio pubblico. Sin qui sembrerebbe la normale conclusione di una partita di campionato tra due grandi squadre. In realtà ieri pomeriggio allo stadio Presti è successo di tutto. Tre spulsi, cinque muniti, un parapiglia all'interno del tunnel che conduce agli spogliatoi alla fine del primo tempo e la tensione che si tagliava a fette. Tensione sportiva ovviamente. Quella sana rivalità tra due squadre che non vogliono perdere e che spesso sfocia in un eccessivo agonismo in campo. Alla fine infatti tutto si è dissolto come neve al sole ed una doccia fredda per calmare i bollori di una partita vera tra due ottime squadre. Una gara che si è messa subito in discesa per i padroni di casa quando al tredicesimo del primo tempo l'arbitro vede una gomitata di paladino su alma lanciato in porta ed espelle con un rosso diretto il giocatore del Dattilo che lascia così i suoi compagni in inferiorità numerica. Con un uomo in più la gara dovrebbe mettersi in discesa per i padroni di casa ma non è così tant'è che il Gela fatica comunque a trovare spazi. Al ventiseiesimo ci prova Mincica ma al suo tiro è una telefonata per l'estremo difensore del Dattilo. Al trentaquattresimo ancora una conclusione di Mincica servito da Bonaffini palla deviata in angolo. Dopo due minuti doppia conclusione di Nassi su cross di Cosentino palla ancora una volta in calcio d'angolo. Al trentasettesimo Vella servito da Bonaffini spara alto da buona posizione. Alma poco dopo gira debole di testa palla al portiere ospite che ringrazia. Brucculeri boccia Lander Vella mettendo il più intraprendente Iannizzotto. Al quarantatresimo Campanaro su cross di Cosentino manca di un nulla l'aggancio fondamentale. Fine primo tempo è parapiglia che si scatena nel tunnel che porta agli spogliatoi. All'arientro all'appello mancano Runza e del tecnico Brucculeri per il Gela. Il portiere bevi l'acqua per gli ospiti. In 10 contro 9 si aprono delle praterie ed il Gela ne approfitta con Mincica che la mette dentro due volte nel giro di due minuti. Poi ci pensa Alma a mettere dentro la palla del 3-0. E infine il neoentrato Mallia che firma il poker per la squadra di casa.